Oggi le porto nel mio laboratorio, insieme a lui andiamo a vedere il processo di lavoro su una delle mie opere. Una delle cose più importanti dentro del mio lavoro è la musica, fa un po' il collegamento fra le mie idee e la tela. Non sempre metto la stessa musica, dipende dalla serie, la musica mi dà tante possibilità espressive, poi diverte sicuramente e poi fa che ogni opera ha il suo perché, ha il suo ritmo, ha la sua forza, richiamo. Dobbiamo sempre avere un progetto, ragazzi, perché questo ci aiuta a lavorare a lungo periodo e un progetto ci porta a degli obiettivi. Le opere le faccio pensando, prima di tutto, a me stesso, nelle cose che mi piace, nella musica che mi piace. Per quello siamo qua oggi, andiamo e iniziamo. È vero? Iniziamo? 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 Our one world is breathing With you and me In harmony Revolving Our destiny is evolving To peace Like a dream Growing up free In peace In peace In peace In peace In peace No Si Ci vediamo nel prossimo video Never in nation Be the solution Now Now